Dacia celebra i suoi dieci anni di successo inaugurando la saga delle Family Extra Limited Edition con la Sandero Hit Edition che vedete alle mie spalle dedicata alle famiglie Unconventional che amano la musica. Punta di diamante della gamma Dacia con oltre 107.000 unità vendute in Italia dal Lancio, Sandero rappresenta oggi il 42% delle vendite Dacia seguendo a ruota Duster che rappresenta il 43%. L'80% dei clienti Dacia è composto da famiglie e dunque è logico pensare a loro e su questo filone Dacia presenta la prima Extra Limited Edition dedicata alle principali passioni dei clienti e oggi iniziamo con la musica. Il suo design esterno celebra la passione per il ritmo e il sound con la sua texture sound music in colore black matte con un'animazione equalizer sulle fiancate e con il tetto a contrasto in colore nero nacque. Sandero Hit Edition è realizzata sulla base di Sandero Stepway 1.5 DCI da 90 CV e dispone di serie di vetri elettrici anteriori e posteriori, di cerchi flex wheel da 16 pollici, di climatizzatore manuale, di radar parking posteriore, di media nav evolution, di cruise control e di ruota di scorta. Elementi specifici e distintivi di Dacia Sandero Hit Edition, oltre all'esclusiva texture sound music, il badge interno numerato, i tappetini personalizzati Hit Edition e l'impianto audio focal music da 120 W con 4 alto parlanti. Dacia Sandero Hit Edition è proposta in soli 100 esemplari al prezzo di 14.500 euro con un vantaggio cliente di 1.400 euro. Dacia Sandero Hit Edition, the sound of music.